Buongiorno, ben alzati e ben ritrovati per questo appuntamento quotidiano con la carta stampata. Occhio ai giornali, come ogni mattina alle 7.30 qui da Fano TV, vi dà uno sguardo, una carrellata delle notizie principali che troverete nei quotidiani in edicola, il resto del Carlino e Corriere Adriatico. Non prima però, come sempre, di aver guardato l'almanacco del giorno e poi le previsioni del tempo. Allora, oggi mercoledì 21 giugno, San Luigi Gonzaga, religioso, il sole è sorto alle 5.25 e tramonterà alle 20.54. Le previsioni del tempo, vediamo dalla grafica della protezione civile Marche, è all'insegna del sole pieno, perlomeno sulla costa, quindi sereno. Poco nuvoloso, però nelle zone interne e nel pomeriggio ci saranno addensamenti cumuliformi, come vedete, possibili rovesci o temporali, però sempre nelle ore pomeridiane, ma sempre sui rilievi. Temperature sono in aumento, mare quasi calmo. Il giorno di giovedì, invece, sarà caratterizzato da un'intensificazione della nuvolosità sui rilievi, con la comparsa anche di piogge nelle basse marche. Nelle ore centrali della giornata farà anche la comparsa di alcuni addensamenti nel primo pomeriggio nella nostra provincia, come vedete. Le temperature continuano ad aumentare, le previsioni per venerdì sono all'insegna della variabilità, sereno, poco nuvoloso, transito di velature nella seconda parte della giornata, però nessuna precipitazione. Il mare continuerà a essere poco mosso e le temperature senza variazioni di rilievo. Vediamo le temperature, ve le faccio vedere perché, per quanto riguarda la nostra provincia, vedete, si arriva nelle ore più calde alle 14 a 29 gradi, però veramente nelle ore centrali sono temperature importanti, addirittura nella provincia di Ascoli Piceno e Macerata si superano i 30 gradi, si arriva anche a 34 gradi. Quindi temperature affose da vera canicola, insomma, temperature che stanno creando anche qualche problema, come lo vediamo anche nella pagina di apertura del resto del Carlino, alte temperature che non fa rima con disponibilità idrica. E infatti la fotonotizia centrale di apertura del resto del Carlino punta appunto sulla danza della pioggia come ultima speranza per scongiurare il rischio del ricorso alle riserve e allora Tiviroli, di Marche Multiservizio, dice necessario prepararsi all'utilizzo delle risorse di falda. I sindaci però frenano sull'ordinanza di divieto dell'uso di acqua per fini non potabili, ma appunto caldo e scarsità di precipitazioni hanno inaridito i fiumi. Poi Mecozzi dal giudice, nel mirino anche i genitori, venerdì sarà interrogato, erosioni e vandalismi nelle spiagge, vedremo dopo che cosa dicono i bagnini, la carnevalesca di Fano che non naviga in buone acque, ha un rosso di 98 mila euro e poi in testa di pagina ancora il dopo Gentiloni, grazie per la nuova scuola ma è più piccola dell'attuale. Allora vediamo, parlando sempre di scuola, oggi è un giorno particolare per milioni di studenti italiani e anche per i nostri della provincia ai quali vanno tutti un grosso in bocca al lupo da parte di tutti noi per la prima prova dell'esame di maturità, ma notte prima degli esami è anche quella dei professori, dei presidi, in 2837 saranno impiegati nell'esame di Stato, tutto è pronto, Anna Maria Mariani, alle magistrali una volta si facevano due esami di Stato, uno anche in quarta, si parte questa mattina dall'italiano ma i candidati dovranno portare la calcolatrice per la matematica. Allora era nel lancio dell'apertura della prima pagina, bagnini insomma un po' sul sentiero di guerra, siamo a Pesaro perché dicono zero turisti, spiagge erose e vandali notturni, quindi devono combattere contro queste difficoltà, i bagnini vedete qui nell'articolo del resto del calino ci sono un po' delle loro testimonianze e le leggi vorremmo migliorare la ristorazione ma queste regole ce lo impediscono e quindi insomma l'operazione poi mare sicuro qui di spalla nella pagina, 50 km di litorale in cassaforte si riparte anche quest'anno per la 26esima volta su tutti i territori della provincia di Pesaro e Urbino. Continuiamo nelle pagine del resto del calino, andiamo a Fano, problemi per le acque non marine ma le acque interne, in questi giorni tutti hanno visto da sabato in poi c'è stata una moria di pesci notevole nel canale Albani, eccoli qua gli operatori di Enel Green Power che raccolgono bidoni e bidoni di carcasse di pesce morto, fino ad ora pensate quattro quintali ne sono state recuperate e il canale Albani va ossigenato, questo sembra essere la causa di questa moria massiccia di pesci, anche perché gli altri animali che abitano questo habitat non ne hanno sofferto e quindi insomma la causa sembrerebbe essere questa, la richiesta del comune a Enel di aumentare la portata del canale per dare ossigeno all'acqua, intanto Altra moria a Rio Pulcino. Il veterinario dice che le carcasse producono una proliferazione di batteri che causano la salmonella e quindi insomma questo è un risvolto di questo problema, insomma le carcasse vanno recuperate velocemente proprio per evitare questi rischi. Tutti i tuffi vietati a Sassonia Sud, l'avete visto anche ieri nel nostro servizio, tutta colpa delle scogliere, il mancato prolungamento degli scolmatori crea ristagno e quindi insomma l'ordinanza è arrivata puntuale, i Cinque Stelle fanno un jacuzzo al governo della città, hanno voluto sospendere i lavori d'estate, risultato cantiere fermo e problemi al primo acquazzone. Vedete qui questa immagine della spiaggia libera di Sassonia che è quella interessata dai divieti, e da Sassonia Sud fino ai Gocar c'è il divieto che vedete qui in questo cartello e quindi niente bagni. Carnevalesca in rosso, l'altro argomento della pagina di apertura, sono 98 mila euro quelli che vanno trovati per ripianare i conti, ridimensionato anche l'evento estivo e nel 2018 l'ingresso sarà a pagamento. Stupore la notizia del disavanzo che ha colpito di sorpresa i membri della commissione che si è riunita ieri pomeriggio, la commissione di controllo e garanzia, dove la presidente della carnevalesca Maria Forola Gian Marioli hanno detto che c'è questo rosso. E quindi si prospetta nel 2018 il carnevale a pagamento. E quindi anche questo ultimo baluardo del carnevale verrà abbattuto e si tornerà al pagamento. Cambiamo la testata, andiamo nel corriere adriatico, qui l'apertura è molto diversa, si parla di multe, di autovelox che fanno stragi tra fano e peso, la raffica di sanzioni con l'uso di nuovi strumenti tecnologici. Adesso poi in testa di pagina l'estate alza il volume, i concerti e feste e spettacoli. Poi nella terra di Valentino Rossi inventano l'Ape TV. Al Passaggi Festival, che insomma è al via da quest'oggi, ma domani sarà la giornata ufficiale di apertura, arriva Veronica Pivetti con il suo libro. E poi nella pagina sportiva, Massimiliano Barbadoro fa un po' il punto sul fano calcio, Pomponio e Balducci vicini all'acquisto del club. Raffica di multe, si diceva nella pagina di apertura, vediamo di che cifre stiamo parlando. Occhi elettronici in agguato, raffica di 300 multe al mese, automobilisti bersagliati dalla polizia locale di Pesero, che utilizza 5 autovelox, un targa system, un vista red, si punta anche però alla prevenzione, postazioni per verificare la velocità, comunicate in anticipo sul sito web. e sanzioni, fino a 169 euro. Anche sul fronte fanese si parla la stessa lingua, vedete l'incrocio che ormai tutti conoscono, con in alto i cassettoni bianchi, con le telecamere, è il gettito del 2017, è importante, verbali per 2 milioni di euro, decisive naturalmente le telecamere, a Fano in base ai dati dei primi temesi, questo è il gettito del 2017 a Fano. Ancora nelle pagine del Corriere Adriatico si parla di cronaca, è incastrato il predone dei telefoni, il pisarese è condannato a 34 mesi, 650 mila euro di multa fatale, la sim che utilizzava per telefonare, razzie in spiaggia, autore di diversi furti, predone appunto dei telefoni, questo è il titolo. Poi un'auto in veste una ciclista, ferita una donna in una rotonda, siamo appunto anche qui a Pesaro sul posto, 118 vigili urbani e polizia stradale. Andiamo a Urbino, dove non si placano le polemiche per l'uscita di sgarbi durante il Consiglio, con invettive e ingiurie, Foschi e sgarbi sono ancora nel caos, un consiglio delegittimato, duro attacco del capogruppo PD Sestilli, nessuno è al di sopra delle istituzioni. Questa è la sua affermazione. E poi andiamo alla pagina di Urbino, che riguarda il punto anche su quello che è successo ieri, lo avete visto nel nostro Tg, eravamo lì sul posto, eravamo sul posto insieme anche al sindaco, il neosindaco di Colli al Metauro, Aguzzi, che a pochi giorni dalla sua nomina subito ha dovuto fronteggiare questa situazione, Aguzzi che era tra l'altro sul posto, insieme a Carabinieri, Forza dell'Ordine e Polizia e i suoi vigili urbani, l'incendio devasta i boschi, ma il neosindaco rassicura salvate due case, vigili del fuoco al lavoro per ore, dalle due del pomeriggio, necessario anche l'arrivo di un Canadair, che è arrivato da Genova, Canadair, che lo vedete in questa foto, si sgrana un po' se la ingrandiamo, però ve la volevo far vedere, qui è in un'operazione appunto di recupero dell'acqua, a Sassonia veniva effettuato sotto gli occhi dei bagnanti questo recupero d'acqua, per poi ritornare sul luogo dell'incendio, per scaricare la bellezza di 6.000 litri d'acqua, insomma, in pochissimi secondi, ma l'azione del Canadair è stata decisiva, soprattutto in un punto, in una stretta gola, dove non si riusciva assolutamente ad arrivare, grande impegno di vigili del fuoco ieri appunto in quella zona. Allora, Passaggi Festival è il giorno appunto di Fano, che parte e diventa la capitale della cultura per 5 giorni, con passaggi, oggi naturalmente c'è l'anteprima, con il via di 4 mostre itineranti, grande copertura di Rai, che è presente con tre testate e tantissimi saranno i personaggi che passeranno appunto per la piazza, qui nell'articolo ci sono tutte le date, i personaggi che daranno vita a questa quinta edizione di Passaggi Festival, anche noi cercheremo di dare copertura e vi faremo vedere il più possibile quello che accadrà in questi cinque giorni in cui il mondo della cultura si concentra su Fano. Anche qui il resto del Corriere Adriatico, come il resto del Carlino, guarda al divieto in Sassonia, colpa dei lavori malfatti, l'accusa è quella dei 5 Stelle, scolmatori allungati solo dopo le scogliere. Ecco il motivo per loro di questa situazione. Nella pagina della Val Cesano vediamo anno dopo anno ripartono i lavori contro il rischio di allagamenti e un anno dopo per appunto evitare gli allagamenti adesso nella zona di Marotta Nord si allarga e si pulisce il fosso di via Cardarelli. Abbiamo individuato le priorità per limitare le situazioni di disagio. Lucia Catalani, l'assessore ai lavori pubblici. Vi faccio vedere anche cosa accade a Senigallia con l'ultima pagina che vi propongo. Sempre impegnata con gli eventi e le attività turistiche. Senigallia in questo periodo, però anche la sosta selvaggia, è un incubo senza fine anche nella città della spiaggia di Velluto. Molte anche dentro i parcheggi, l'ex Satellite, due automobilisti sanzionati per aver impedito l'uscita di altre macchine statale e lungomare. I punti critici, si verificano situazioni difficili da gestire con i mezzi abbandonati in divieto di sosta. E allora, qual è l'alternativa? Prendete i risciò, ma neanche questi si possono prendere. Vietati, passa solo per il mare. Quindi, insomma, questo è un risciò che arriva in centro a Senigallia. Non ci può andare. E quindi, insomma, vigili impegnati che hanno cercato di rintracciare i proprietari dei mezzi che intralciavano l'uscita, ma non c'è stato verso e quindi hanno chiamato il carro a Trezzi. Bene, questa era l'ultima pagina che vi proponevo. Grazie per essere stati in nostra compagnia. La segna stampa di oggi termina qui. Questa sera vi ricordo, naturalmente, il nostro telegiornale alle 20.30. La segna stampa torna domani mattina alle 7.30 puntualmente. Bene, che sia una buona giornata per tutti voi. Arrivederci.